Smoke when we all celebrate success so now we Yeah that's right you know we I thought I told you that we Ma bella a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Turi e oggi andremo a giocare a FIFA Come avrete letto dal titolo quella che sto per iniziare oggi è una serie dove noi andremo a scommettere O meglio io scommetterò perché voi signori non perderete nulla, voi potrete solo vincere Tutto la scommessa gioca su di me Ragazzi giocheremo contro a FIFA e in palio ci saranno 50 euro Naturalmente se voi mi battete vincete 50 euro Se voi perdete avrete perso un'opportunità Per partecipare ci sono tre semplici regole La prima vi dovete iscrivere al mio canale La seconda dovete commentare sotto questo video facendo l'hashtag playwinturi più la console che utilizzerete per giocare Terzo non ve lo sto neanche a dire dovrete avere il gioco Che nel primo episodio sarà FIFA 16 ma dal secondo in poi saranno solo su FIFA 17 In più dovrete disporre anche delle cuffie con un microfono perché così potremo parlare liberamente Ragazzi la serie è semplicissima Voi dovete solo commentare e poi se il caso vorrà giocheremo contro e vincerete 50 euro Sempre che voi mi battiate Ci vediamo prossimamente su FIFA Peace Sì 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 Grazie a tutti